In un'area protetta di Castellabate ed in zona agricola è stato sequestrato un immobile ad uso residenziale su cui erano stati effettuati lavori di diversa natura in difformità al titolo abilitativo edilizio posseduto con la realizzazione di opere interne ed esterne che avevano trasformato il manufatto stesso. Lavori compreso il frazionamento in più unità immobiliari realizzati senza alcuna autorizzazione, denunciato il proprietario. Inoltre, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri del nucleo Parco di Castellabate in collaborazione con l'ufficio anti-abusivismo hanno eseguito il sequestro di un'area ricadente in zona di riserva del parco in cui erano stati effettuati dei lavori di movimento di terreno che compromettevano l'assetto idrogeologico ed il profilo naturalistico dell'area. Tre persone sono state denunciate, il proprietario dell'area ed i committenti delle opere realizzate illecitamente.